E' bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono il vostro Mr. Bistecca Ed oggi signori miei ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatore con il Manchester United Allora signori abbiamo subito la partita contro l'Inter per l'International Cup Insomma, l'amichevole, vabbè, leviamoci subito di mezzo questa partita Vediamo di battere la nostra ex squadra, skip, 2-0, gol di Kovacic, tra l'altro sempre ex dell'Inter E gol di Verratti, insomma, diciamo che ha fatto abbastanza turnover l'Inter Ha messo panico, panico, insomma, ha giocato a casa dei, fa molto piacere Ha giocato Ronaldo ragazzi, che noi abbiamo preso, avevamo preso a gennaio Con l'opzione di prenderlo gratis poi che ci sarebbe arrivato a giugno E vabbè, l'abbiamo preso poi, purtroppo non ci abbiamo mai giocato E buono ragazzi Ah ecco, a proposito dell'Inter Alcuni di voi mi hanno detto anche di provare a riportare al Manchester Pogba Ragazzi, cioè ci possiamo anche provare ma sarà praticamente impossibile Comunque ci possiamo anche provare Sergio Romero ce lo chiede la Lazio Ma, eeeh, se arrivassero ai 10 milioni Si, si ragazzi, 10 bastano Arrivassero ai 10 milioni quasi quasi possiamo anche mandarglielo Tanto per noi non è indispensabile Ah già, e poi eravamo rimasti a metà con tutte le trattative Eeeh, madonna quante ne stavamo facendo Però, se non sbaglio Non abbiamo neanche più soldi E infatti non abbiamo più un centesimo Quindi prima dobbiamo vendere poi possiamo forse ragionare di qualcosa Bene, bene Eeeh, Joel Pereira Cosa vuole? Vorrebbe giocare? Ma col cazzo Sinceramente ragazzi no Perché ci tengo a vincere anche contro il Paris Saint Germain Per fare più soldi nell'American Challenge Cup 3 a 0 Gol di Semedo Gol di Marets Gol di Depay Però Eeeh In fortuna di Kovac c'è l'espulsione di Smalling Beh, l'espulsione non era un problema Ma l'infortunio di Kovac c'è abbastanza Speriamo non sia grave Quanto meno Eeeh Ok, mi fa molto piacere che Gennaderling vada per 25 milioni dal Barcellona Premio di 3.100 9 giorni Ok, vabbè, 9 giorni non è un problema Qui due partite Vabbè, non è un problema neanche Tenere fuori Smalling per due partite Schule ragazzi E Schule potrebbe essere un'ottima opzione 7 milioni e mezzo più Smalling Facciamo un contratto da 70 mila E vediamo se Schule riusciamo a portarlo al Manchester Potrebbe essere, ragazzi, essere veramente un gran colpaccio per la nostra squadra Eeeh Poi intanto comunque aspettiamo di ricevere anche i soldi Dalle altre squadre Eeeh Perché dalle altre squadre è dal Barcellona E offerta anche per the buy del City Ok, cioè ok mica tanto Perché comunque il City Ok, allora fermi Prima di tutto pensiamo a Romero Alla Lazio Eeeh Hanno offerto 8 Facciamo 9,250 Ci potete arrivare In teoria sì Perché ce l'avete i soldi Quindi Dai Vediamo di farla così Eeeh Non sarebbe proprio un grandissimo affare Mandare the buy al Manchester City Però Tutto sommato Eeeh Non è neanche troppo indispensabile Per noi the buy Quindi Quasi quasi Per 40 milioni Possiamo Vedere di fare qualcosa Ok Qui cancelliamo Eeeh Per il momento Queste altre trattative Le lasciamo tutte qua Un secondo in stand by E ragazzi però A sto punto voglio vedere anche un'altra cosa Eeeh Dai contratti In quanti vanno in scadenza Perché Porco cacchio Quasi tutti Ecco perché arrivano tutte Offette basse 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 De Gea Va in scadenza Young pure Lewandowski anche Smalling Jones Schofo e Daini Schnelli d'Erlin E raga Minchia Sono quasi tutti in scadenza Tranne Valencia Che Vogliamo Anzi In senso Tra quelli che vogliamo vendere Valencia non va in scadenza Eeeh Solo Valencia E per Eire Ma non la vogliamo vendere Yanusai Ma Ok Johnstone Ok Blind non va in scadenza Meno male Eeeh Mica ragazzi Per il resto sono tutti in scadenza Porco cacchio Ecco perché Ci fanno tutte offerte bassissime E noi non riusciamo a tirare Più di tanto Sul prezzo Eeeh Insomma Non Bene ma non benissimo Comunque Partita contro L'Orlando City Guarda di Riccardo Cacca Vediamo Di Riuscire a sconfiggere Anche loro 2 a 0 Gol di Kovacic E gol di Verratti Espulso stavolta Però Giorginio Ma va bene ragazzi Siamo arrivati In finale Sono Tutti i soldi Guadagnati Per noi Dovrebbero essere Circa altri 3 milioni e mezzo 4 Quindi molto buono Vediamo un po' 4 e 2 Benissimo Va bene Scalificato sempre per due giornate Giorginio Conferenza stampa per la partita Contro il Villareal E ho visto che Schule Ha accettato Bene Però ragazzi Volevo provare a fare Anche altre trattative Per qualche altro difensore Magari Riusciamo a tirar fuori Qualche altra Qualche altra Ultima trattativa Però Se non vediamo Prima Trane d'Erlin Siamo bloccati Quindi vediamo un po' Perfetto Venduto c'è noi d'Erlin E qui che abbiamo James Wilson Lo possiamo mandare in prestito All'Addersfield Per un anno Ok ci sto Mandiamolo tranquillamente In prestito Come avevamo Stabilito E A questo punto ragazzi Direi Di provare a fare Qualche altra trattativa Per esempio Maximovic 30 sono troppi Più Smalling Però Sui 15 Intanto Ci possiamo provare Ad arrivare Dai E vediamo Comunque ragazzi Maximovic Avrebbe già un pochino Più di esperienza Di Shule Anche qualche Appunto Anche qualche Anno in più Però Sarebbe già Un po' Più potente Poi Cullibali Non sarebbe affatto male Sarebbe molto potente Come acquisto Possiamo provare Con un 10 Più Smalling Poi Poi se no Chi abbiamo Abbiamo Murillo Che non sarebbe Neanche lui Affatto male Però Dare Smalling Per Murillo Mi sembrerebbe Un pochino Troppo Potremmo provare Con Blind Daily Blind Più Vediamo A parte ragazzi Murillo Non avrebbe neanche Troppo senso Ad andare a comprare Perché comunque È praticamente Uguale a Jones Hanno la stessa età È leggermente più forte Murillo Ma Siamo lì Quindi no Murillo ragazzi No No Invece Rugani e Romagnoli Sarebbero già altri Tutta un'altra cosa Quindi possiamo provare Per loro E possiamo fare Blind Più Due milioni Per Rugani Sì Ci sta Mentre Per Romagnoli Potremmo provare Sempre Blind Più Quattro Perché non so Quanto ci si possa Spingere In avanti Perfetto Max Meyer E Reese Oxford Potremmo anche Lasciarli qua Per il momento Oxford Ragazzi Ho già detto Mi piacerebbe Tantissimo Portarlo Con noi Vabbè Alla fine Oxford Non sarebbe Troppo diverso Da Rugani O Romagnoli Quindi Andiamo sempre Blind Più zero Però Uno scambio Blind Per Reese Oxford Ci potrebbe anche stare Alla fine Speriamo che l'Inter accetti Per Max Meyer Non rifiutato Mata Proprio non gli piace Runei No ragazzi Runei non glielo do Assolutamente Per Iran Potremmo Potremmo in un certo senso Provare Con Con Gli Anusai Eh Quasi quasi Possiamo provare Con Gli Anusai E basta Perché alla fine ragazzi Ho Runei Runei un pochino Mi scoccia Proviamo Runei Dai ragazzi Lo so È un Delitto Quello che sto cercando Di fare io Perché vendere Runei Dal Manchester United Cioè Mandarlo via dal Manchester United Sarebbe un delitto Però E dai vediamo E simuliamo la partita Contro il Villareal L'ultima amichevole Di questo Di questa estate 2018 Vediamo di portarci a casa Questi ultimi milioncini No Peccato Sconfitta ai calci di rigore Maledetto De Pai Che sbaglia ai calci di rigore Comunque Dai va bene Va più o meno bene Comunque siamo già arrivati in finale Non si è fatto poco Comunque per essere un torneo Amichevole Ci siamo portati a casa Abbastanza soldi Perciò va bene E E Ah Bene Bene Sono contenti anche dalla società Quindi va tutto bene La Lazio Ha accettato i 9.250.000 Quindi va bene Il City No Però è arrivato a 28 Noi avevamo chiesto 40 L'obiettivo sarebbe A meno 36 E Però ragazzi A questo punto Forse ci conviene Per De Pai Cercare di rinnovare il contratto Probabilmente Decadrà l'offerta del City Però ci perderemo troppo A vendere De Pai Così perché comunque È molto Nel senso Ibra O venderlo a 18 O venderlo a 20 Comunque cambia poco Perché Ha già Una certa età Comunque Sui Sui 35 anni Il valore cala molto Ma per De Pai Che ne ha 24 Ed è 83 E venderlo a molto Meno Non sarebbe Un grandissimo affare Quindi facciamo 130 Giocatore Importante Prima squadra E proviamo a rinnovare Il contratto Come forse ci converrebbe Provare a rinnovare Il contratto Di Shaw Che comunque È un giocatore Molto importante Per la nostra squadra Mettiamo anche Chiave Addirittura Beh De Gea Possiamo aspettare De Gea Lewandowski Loro possiamo Vabbè Già che ci siamo Ragazzi facciamo Un giro completo Di rinnovo di contratto Facciamo quindi De Gea Facciamo Lewandowski Che è fondamentale Il leva Giocatore chiave Benissimo Smalling Aspettiamo Fellaini No Jones Jones Sì perché comunque Lo teniamo Assolutamente Giocatore Lasciamolo per il turnover Depay Rune Wilson Rune Aspettiamo Wilson Goss Varela Mata Romero Il fituri Tuanzè Tuanzè Ragazzi Se non chiede troppo Sì possiamo rinnovarlo subito Solo 7 mila in più Mettiamolo No Lasciamolo futuro Lasciamolo futuro E Sembra Vabbè Questi sono già Due anni di contratto Quindi a posto così A posto A posto A posto No Aspettate Rinnoviamo anche il contratto Di mata Perché comunque Non ce lo sta chiedendo nessuno Quindi Potrebbe essere il segno Che per il momento Non interessa a nessuno E Magari Potrebbe essere Un possibile Oggetto di mercato Molto importante Per Gennaio E vediamo Bene E andiamo avanti Ragazzi Io direi di arrivare Intorno al 10 12 Di agosto E Molto buono Molto Molto buono Allora Subito Trattativa per Romagnoli Facciamo 70 mila 4 anni Giocatore Lasciamolo Per il turnover Proviamo per il turnover Poi magari ci chiederà Importante lui Però ragazzi Voglio che me lo chieda lui Napoli Cullibali Vogliono 30 milioni Più smolling Sono tantissimi Vediamo di arrivare Non lo so A 17 Tondi Una via di mezzo Vediamo Vediamo Atletico Buono Ha accettato 15 milioni Più smolling Per Maximovic Molto buono Facciamo subito 110 Due anni Giocatore Chiave Prima squadra Ovviamente Nicola Maximo Potrebbe essere Un'ottima opzione Aspettiamo il rinnovo Di De Pai Nel frattempo Prima di proseguire La trattativa Con il City 6 E-mail Niente Rugani Niente Maier Niente Oxford Ha accettato il rinnovo Lewandowski L'ho accettato anche Tuanzebe L'ho accettato anche Mata Molto bene Molto bene Mata che bisogna Subito rimetterlo Comunque sul mercato Non scordiamoci Di fare questa cosa Dove sono andato Perché qua Perché qua E- Cioè rinnoviamo Il fatto di mettere Mata sul mercato Perfetto Così ragazzi Anche il contatto nuovo E sicuramente Le offerte Che ci arriveranno Saranno un pochino Più alte Allora E- A questo punto Sia l'Inte Che E- Che l'Inter No ragazzi Cioè Entrambe A parte no Anche la Juve Hanno rifiutato Tutte le nostre offerte Per Oxford Non Blind Non piace All'Inter E la vedo Molto complicata Come situazione Come vedo Molto complicato Maier Come vedo Allo stesso tempo Molto complicato Rugani Perciò ragazzi Mi sa che bisogna Abbandonare Tutte e tre Queste piste Perché Senza contropartite Momentaneamente Non possiamo Fare trattative Altrimenti Andrebbero via Troppi Troppi Soldi Ha accettato Romagnoli Abbiamo venduto Sergio Romero Ha accettato Jones Ha accettato Shaw Ha accettato Anche De Gea Molto bene E intanto L'offerta Per Schuole È decaduta Però aspettiamo Un secondo Perché Bisogna vedere Anche Maximo Invece Coulibaly Attenzione Attenzione Khalidu Coulibaly Allora Io farei così Facciamo subito L'offerta Per Coulibaly Che sicuramente Accetterà Prenderei Romagnoli Perché comunque A questo prezzo Ragazzi È veramente Un affarone 4 più blind Un'offerta Da 22 milioni Per un giocatore Per cui ce ne chiedevano 32 È molto Molto Vantaggiosa Perciò Romagnoli Ce lo portiamo a casa Ce lo teniamo là Come riserva E per Maximo Ci aspettiamo Anche di sapere Da Coulibaly Poi ragazzi Magari ve lo farò Scegliere a voi Nel prossimo episodio Potreste consigliarmi Uno tra Coulibaly E Maximo Invece è stato Romagnoli 81 Ragazzi Direi che ci sta Tantissimo Come colpo Chiaramente Non è da mettere Il titolare Però è quasi A livello di 6,5 Di Jones Quindi Veramente Un ottimo acquisto Per la nostra squadra Alessio Romagnoli Cancelliamo tutto Torniamo tutto Indietro Qui chiudiamo Aspettiamo sempre Il rinnovo Di Depay Che non sta arrivando Ragazzi Questa cosa Insomma Non mi fa troppo piacere E vedo che non arriva Continua a non arrivare Sarà questo? No ragazzi Ma Tanto per Capirsi L'abbiamo fatto Il rinnovo a Depay Oppure no Perché Ha rifiutato Il contratto Ah Ecco perché Maledetto Maledetto Eh ragazzi Allora Si è rifiuta Il contratto Ah cazzo Ha rifiutato anche il City Però E allora Quanti soldi abbiamo? Mettiamolo su questo piano Quanti soldi? Siamo arrivati 54 milioni Stanziando un po' il budget Magari lasciandolo sui 200 Arriviamo a 67 Non ce la facciamo Per Pogba Torniamo Nella nostra Ah cazzo ragazzi L'attaccante L'attaccante Dobbiamo Prendere anche noi Siamo ancora senza attaccante Porco cane Subito a chiedere informazioni Sia per Riccardi Che per Simeone Che per tutti gli altri Porca miseria ragazzi Mi stavo scordando Un ruolo fondamentale Nella nostra squadra Perché Siamo senza attaccante Di riserva Minchia Eh no Questo ci serve tantissimo Ma veramente tantissimo E Pogba ragazzi 88 milioni È difficile Molto difficile Provare a portarlo Comunque Chiediamo informazioni Ma sarà molto Molto difficile E Altri per cui chiedere informazioni Magari da tenere Come riserve Da far crescere Possiamo provare Per Locatelli E Che mi viene in mente Poi ragazzi Questi purtroppo no Perché hanno un valore Molto alto Sono veramente Tanti soldi E No Niente da fare E Kovalenko Possiamo provare A portarci In squadra E Ah ragazzi Mi è venuta anche un'altra idea Aspettate Visto che comunque Era frutto del nostro Vivaio All'Inter Praticamente ragazzi Era un Era ed è tuttora Un talento Io proverei a portarci A Manchester Anche Stefano Casadei Chiaramente non sarà Il titolarone Però possiamo Tenerlo lì In panchina A fare un po' di riserva Qualche presenza Magari nelle coppe Possiamo fargliela fare E Tanta bella roba Allora Subito i prezzi Per gli attaccanti 81 per Riccardi Olè Solo 7 per Simeone Molto bene 30 per Mitro Che c'è ok 33 per Werner Un'infinità Per Dibala No ragazzi Dibala Non lo possiamo prendere Assolutamente Per Locatelli 3-4 Kovalenko 33 Va bene Va bene Aspettiamo anche Il prezzo Di Casadei E di Pogba Che sicuramente arriveranno Questo famoso 15 di agosto Eccoli qua I due prezzi Pogba Va bene Ok lo sapevamo 4 milioni e 8 per Casadei Allora Facciamo subito Un giro di offerte generale Per Pogba Come possiamo Giustrarla Questa situazione Non essere Invece ragazzi Non abbiamo contropartite O meglio Visto che Depay comunque Non ha rinnovato Quindi è segno Che qualche Problemino C'è Potremmo provare Con lui Oppure Con Mata Allora Partiamo subito Con Depay Che comunque Ha un valore Molto più alto Eccolo qua Ragazzi Madonna Quanto costa Pogba Tra i 111 E i 132 Milioni Sono una Fraccata Di soldi Boia Miseria Sono veramente Tanti Però possiamo Provare A chiedere All'Inter Per se Se lo Possono Mandare Per Depay che vale Sui 40 Più 50 Un'offerta Da 90 milioni Circa Sarebbe più o meno Il valore Di Pogba Probabilmente Un'offerta Abbastanza Bassa Ma ci possiamo Provare E poi ragazzi Partiamo a fare Le altre offerte Per esempio Per Casa Dei Lo potremmo Prendere in prestito Con diritto Di riscatto Fissato a un anno E il riscatto Lo possiamo provare A mettere Sui 2 milioni E mezzo Quasi quasi Forse anche Basta Perché se non mi ricordo male Il valore di Casa Dei Sui 3 milioni Quindi vabbè Vediamo Icardi Ci pensiamo Un secondo Simeone Simeone Che era già oggetto Di calcio mercato Con il nostro Nottingham Forest Potremmo sempre fare Un prestito Con diritto Di riscatto Perché comunque Il valore Non è esagerato Quindi potremmo Provare Sempre per un anno Sui No Facciamo per due anni Ragazzi Perché comunque Ci potrebbe stare meglio Sui 4 milioni E mezzo Di prestito secco Più il riscatto Cioè Non di prestito secco Più Il diritto di riscatto Pissato a 5 milioni Per i prossimi A 4 milioni e mezzo Per i prossimi due anni Mitrovic È il nostro valore Molto alto Prima quindi Facciamo l'offerta Per Locatelli Sempre Prestito con diritto Di riscatto Un anno E possiamo provare Per 2 milioni I tondi Sempre per un anno Quindi Ok E niente Per quest'altro invece Facciamo un'offerta Vera e propria Per prenderli subito Allora Possiamo inserire Come contropartita Per Mitrovic Un bel Un bel Fellaini Ma quasi quasi ragazzi Mettiamoci Fellaini Più 8 milioni Un'offerta Da 15 Probabilmente Sarà un po' Bassa Però Ci starebbero Per Werner Possiamo fare Anche la stessa cosa Magari con qualche Soldo in più Fellaini Per esempio Più 10 Invece che più 8 Perfetto Anche questa Un'offerta Sui 17 18 milioni Per Riccardi Per Riccardi ragazzi Ma no Ci sarà altro che un problema Portarlo In squadra Boh Facciamo Runei Più 25 Ma è comunque Molto bassa Come offerta E Covalenco Ragazzi Non mi sarei mai aspettato Avesse tutto Sto grandissimo valore E buttiamoci Sempre magari Runei A questo punto Più No no Che Runei Fellaini Più 7 e mezzo Ma è un'offerta Bassissima Sicuramente Ragazzi Proprio buttata lì Giusto per vedere Cosa ci risponde A Il Sassuolo Bene Direi di avanzare Giusto di un paio di giorni E poi di fermarci qua Con l'episodio Per non Andare Troppo Troppo avanti Vediamo giusto Qualche risposta No Più che risposta Abbiamo un'offerta Per Joel Pereira Ok Ce la fa Lexter City Ma ragazzi Non mandiamolo Soprattutto tanto Non mi interessa Assolutamente Joel Pereira Mandiamolo così Per quanto ci offrono Anche se è meno Di quello che vale E chi si è visto Si è visto Ok Allora Guardiamoci giusto Queste Appunto Offerte ragazzi Perché Ci fanno un'offerta Per Dan Henderson Ce la fa Il Crew Alexandra Ma mandiamoli anche lui Senza problemi A 230.000 Invece che a 250 Bene Vediamo cosa ci dice Il Wolfsburg Ha rifiutato La nostra offerta Il Milan Allora Il Milan Non va bene Il prestito Con il diritto Di riscatto Di Locatelli Quindi abbandoniamo Questa pista E ragazzi Abbandoniamo anche Mauro Icardi Perché costa Veramente Troppi Troppi soldi E Niente Arriviamo Allora Allora Per Venner 30 milioni Sono tanti Da dargli Più Faildaini Potremmo Però provare A cambiare Giocatore Per esempio Potremmo Dare come Contropartita Quanmata No Qualmata Ragazzi No Costa troppo Qualcuno Di un valore Un pochino Più alto Di Faildaini Che non Rientri troppo Nei nostri piani Non c'è E allora niente Diamo di Faildaini Proviamo più 17 e mezzo E facciamo La stessa offerta Anzi no Più 15 Per Mitrovic Che Sì Non mi dispiacerebbe Ragazzi neanche Le forze Tra i due Preferirei Un po' di più Werner Però tutto sommato Anche Mitrovic Non mi dispiacerebbe Kovalenko Lo abbandoniamo Ragazzi Come pista Riproviamo A fare un'offerta Non di prestito Magari semplicemente Di acquisto Per Casadei Chi possiamo dargli Come contropartita Però Qualcuno possiamo Metterlo Sicuramente Sean Goss Non penso Piaccia all'Inter No ragazzi Niente Diamogli Semplicemente Soldi Facciamo 3 milioni Tondi Nettissimi Proprio Sperando che L'Inter Accetti Altrimenti Vabbè Proveremo A alzare Ancora un pochino Il prezzo E per Pogba È un po' Un problema Perché Boh Proviamo a buttarci Mata Sempre più 50 milioni Ragazzi Ma sarà impossibile Bene Ok Ok signori Allora Direi che per oggi Il video Può Finire qua Guardiamoci Il calendario Allora Ci mancano Esattamente 7 13 giorni Alla fine del calcio Mercato Nel mezzo Abbiamo La partita Contro West Brown With Albion E Watford In Campionato Sono due partite Molto Interessanti Non Delle più Difficile Ma comunque Sono le prime due Della stagione Importante Anche per vedere Come si comporteranno I nostri Nuovi Acquisti Ragazzi Io direi Nel prossimo episodio Di Valutare Un pochino Se andare a giocare Le due partite O comunque Simularle Magari possiamo Partire a simulare Con il Watford Nel caso in cui La partita Non dovesse andare bene Giocheremo Magari Contro Il West Brown Which Che tra l'altro Sarà anche In trasferta Presumo Vediamo Ma sarà Esattamente In trasferta Ok Alcuni di voi Ragazzi Si è nepotizzato Di fare una live Per l'ultimo episodio Del calcio mercato Con lo United Quasi quasi Ci potrebbe anche stare Di fare una live Non l'ho mai fatta Sul canale Comunque So come si fanno Non sarebbe Quello il problema Vediamo Fatemi Magari sapere Anche voi Con un commento Se L'ipotesi Live Vi potrebbe Piacere Oppure No E Niente Ragazzi Poi appunto Vedremo Un po' Cosa fare Chiaramente Consideratemi Sempre Nuovi acquisti Da andare A fare I soldi Più o meno Ne abbiamo Abbastanza Siamo Sui Quasi 70 milioni Di budget Magari Consentemi Qualche attaccante Perché Comunque Per il momento Non ne abbiamo Tranne Cosa Ho pigiato Ah Tondo Tranne Vabbè Lewandowski Come titolare Griezmann Però che lo impieghiamo Come alla sinistra Abbiamo solamente Zedurbo Come riserva Ma Non ci basta Ce ne servirà Sicuramente un'altra Per il momento Stiamo trattando Per Mitra Invece per Werner Se però Avete qualche altro Consiglio Datemelo Tranquillamente Senza problemi Altre riserve Che ci possono Tornare comode Ma Ragazzi Nessuna Perché comunque Abbiamo tutto Siamo abbastanza Completi Sì sì Centrocampo In difesa Siamo pieni di giocatori Sì 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 Niente Quelli ragazzi Se avete qualche attaccante Da considerarmi Ok E Boh Vedremo poi Se provare A sperimentare Una live Per l'ultimo episodio Della carriera E dunque ragazzi Cioè Del calcio mercato Della carriera E dunque ragazzi Perché appunto Per oggi il video Può finire qua Vi chiedo Come la solita Vi abbraccio nel su Di iscrivervi al canale Di condividere il video Con tutti i vostri Amici ragazzi Anche un bel commento E direi che ci possiamo Vedere domani Con un nuovo video Bona Ciao 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 Ciao